Abbiamo indicato la scuola Padalino e abbiamo previsto una spesa di 5 milioni di euro, dei 16 milioni che abbiamo a disposizione ma che non possiamo spendere a causa del patto di stabilità. Mi auguro che Renzi mantenga fede alla parola data, una scuola, ogni città da ristrutturare e faremo una ristrutturazione dell'edificio Sant'Arcangelo dal punto di vista estetico molto valida e dal punto di vista funzionale altrettanto valida, cioè faremo la ristrutturazione con le norme antisismiche, con il risparmio energetico, cioè tutto quello che ci impone la legge e anche di più se possibile.